Un sedicenne è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti al giovane pusher sorpreso dagli uomini della squadra mobile nelle vicinanze della recinzione esterna di una scuola superiore nissena durante l'ora di ricreazione appartato assieme ad una tredicenne in possesso di 15 dosi di marijuana e 4 secchette di hashish confezionate e pronte per essere spacciate per un peso complessivo di circa 10 grammi oltre che di un coltello. A seguito della perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto inoltre un'altra dose di marijuana. Tutta la droga è stata sequestrata dalla Narcotici. Il giovane è denunciato in stato di libertà alla locale procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e affidato ai genitori. La tredicenne, condotta in questura e affidata ai genitori, ha riferito ai poliziotti di fare uso di stupefacenti. E gli agenti del reparto Prevenzione e Crimine di Palermo, aggregati per servizio di controllo del territorio hanno controllato quattro giovani, tutti con pregiudizi di polizia, che stazionavano in Piazza Garibaldi. Dalla perquisizione personale addosso a uno di essi, all'interno della tasca del giubbotto, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato due involucri di marijuana, del peso di circa 2 grammi. Il 23enne, che ha dichiarato di fare uso di stupefacenti, è stato condotto in questura e segnalato. Il giovane era già stato avvisato oralmente dal questore di Caltanissetta nell'ottobre del 2016 e sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria lo scorso marzo. Nel corso del 2017 l'attività antidroga della polizia di Stato ha consentito di arrestare 12 persone e denunciarne 38, di cui 26 segnalate per uso di stupefacenti. Circa 6 chili di droga sequestrata, 65 grammi di cocaina, 156 grammi di hashish e 5452 grammi di marijuana.